I colloqui di pace tra le FARC e la Colombia devono concludersi entro il prossimo novembre. Questa la risposta del governo di Bogotà alla decisione delle forze armate rivoluzionari di sospendere i negoziati in corso a Cuba per valutare la proposta del presidente Santos di indire un referendum sui termini dell'eventuale accordo. All'Havana i guerrieri hanno detto noi lasciamo il tavolo per studiare la proposta. E' una volontà assolutamente legittima, ma il tempo passa e la pazienza del popolo colombiano ha i suoi limiti. Sul tavolo delle due delegazioni restano ancora diversi punti da affrontare, tra cui la partecipazione alla vita politica degli eventuali partiti nati dalla ribellione e la prima interruzione dei negoziati avviati nel novembre 2012, l'irritazione delle FARC è dovuta anche al fatto che Santos non è escluso la detenzione per i leader della guerriglia.